Ciao ragazzi, qui per normalcomics e benvenuti in questo nuovo video ragazzi continuo il mega challenge incredibile galattico ma riproponiamo la sommaglia challenge perchè è stata fighissima e perchè abbiamo vinto contro Alessia anche 223, 223, 221 è stata fino all'ultimo secondo non sapevamo chi stava vincendo a un certo punto ci lo chiedevamo tra di noi proprio impossibile tenere il conto adesso è fatto esplodere i pacchetti, fantastico siamo 7 punti per Alessia, ancora in vantaggio ma io sono a 4, Gaetano a 3 e stiamo arrivando andiamo un po' raga potremmo anche fare in futuro una versione a chi trova la somma più bassa però per ora continuiamo con la somma più alta perchè sono divertenti li accetti o li vuoi prendere tu autonomamente? li accetto li accetti, ti fidi bro si, inizia chi inizia? inizia chi ha perso la sguota vado, vado io speriamo ora trovate con 13 numeri alti comunque con quel 66 che ha trovato praticamente hai librato la spesa 3 pacchetti in un giocatore ecco allora iniziamo con il numero 16 buono eh allora inizia molto bene molto bene porca mayoral 21 niente male buono magnonelli 4 decisamente no vabbè vabbè vuol dire e dirillo che vuoi vincere tutto e dirillo che vuoi vincere tutto vabbè già che trovi tutti i calciatori è un vantaggio enorme infatti pacchetto con 5 giocatori di serie A mai visto niente male dai ragazzi faile vedere come si fa 9 ma poca roba torregrossa daversa 7 orzolini sfigatissimo empoli 44 e dai se non trovo un 40 pure io qua mi devo soltanto uscire dalla charge 44 devo solo uscire dalla charge per cercare di tenere il passo di Alessia che è già partita in quarta con un bello 40 eh 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 raga se non trovi anche io un 40 almeno sono fregato ma c'è tempo 45 forestieri ma te li chiami Simo si umma te li chiami Simo eh però poi trovo Pellegri e Piramont eh vabbè però inseriamo un 45 poi 12 De Paoli 12 è male 8 Aaron Ramsey 33 Adamunas penso di stare avanti eh vabbè sì sì certo certo gufami 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 trofeo del giorno un pacchetto di smarties vabbè per me posso anche finirlo va bene va bene qui se cosa vi è piaciuto se non vi piace eh sì iscrivetevi iscrivetevi a prescindere uh scuola tater non l'abbiamo trovato questo tater questo Juve la zebra ah sì Juve giusto non riesco a capire cosa fosse eh sì comunque è una zebra allora poi tre giocatori al Parma oh poi eh non ho idea di come si pronuncia van oidonk 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 del Bologna numero 20 non male Milenkovic numero 4 e poi scudetto niente ricordiamoci che anche un numero basso ci può dare la vittoria alla sconfitta oh già certo certo però sono preferibili i numeri belli alti beh certo più ripenbe il 99 99 c'è qualcuno sicuramente 8 vigliar Brescia uuuu Zortea Ternana 23 chini eh te va bene eh non vale non male non ti dai mi va bene per cercare di rimanere penso che sei primo sei primo penso no vado io no 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 tu ne hai trovati già di prime ci muovo a aperto un pacchetto in più se qua trovi tutti i 40 eh certo certo bufa bufa e guarda 12 12 alexandro guarda qua che altro numero 8 23 magnani no la prossima è ancora più alto guarda guarda 10 castrovilli dai dai guarda sei primo non sono alti però sei primo lo stesso è il primo posso farcela puoi farcela si l'importante per me che non venca invece questa cava cava che fugge proprio allora verde numero 10 eh 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 Zirkoski 27 potete ticolo shaped Ну dktecel avanti eh scusa 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 13 pensavo fosse numero un po' più alto 5 daglie 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 na posso restare in gara mi serve una bombetta ma ho qua dai 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 mi serve tanto gente di serie A gente di serie A Guarda quanta gente di serie ha No No Ha trattato il 97 Ha trattato Enrique E vabbè È vinto È vinto Bravo Ha trattato Fabio Ruizotto Non c'è No È sparito Enrique Non esiste Trova anche lo squelto il Milan Tre del Como E Bologna Il Bologna Enrique raga Enrique Enrique Iglesias Se a me non si vissa bene L'apertura di questo pacchetto Devi aprire un altro Sì Oh no raga Diamine Raga ma secondo me Posso mai trovare in due pacchetti Almeno il totale 97 Sì Puoi È follia raga Guarda qua Guarda qua No ha vinto Ragazzi non la vinco Non la vinco Entrambi 5 euro No No vabbè 99 Guarda L'avevo detto Te odio Andre Frank Anche sa Dai guarda Anquillone 99 Commenta È l'unico modo Per riequilibrare questa challenge Se noi siete di nuovo pari Commenta Commenta È incredibile ragazzi Questa challenge è incredibile Io non so chi sta avanti adesso È difficile proprio a dirsi Pari quasi 8 tonali Come la vuoi commentare Come la vuoi commentare 13 reca 11 lasagna Ma Raga Anguillone Anghissà Contro Enrique Come la vuoi commentare Che sfidona Come la vuoi commentare La roba del genere Che siamo pari in pratica Io Io Apri questo pacchetto Anche se Ormai Lo prende 100 È andata Lo prende 100 Skriniar Il primo gol della stagione Bello Numero 9 Beto 31 Adio in realtà Non è male Guarda che le somme Sono importanti E poi Scudetto dell'Atalanta Tocca a me All'altro 90 Non lo posso battere Quindi ti prego Non lo trova Dai Questa l'ho persa Vabbè Ale Non lo so in realtà Sai Le somme Le tue Te le trovo Stai Dai 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 Sì vabbè Vinta Vinta Ciaone 8 Vinta Sì Mi ha trovato 99 C'è un gufo Vabbè 97 99 Non è che la differenza C'è un gufo No ragazzi È difficile proprio questa C'è un gufo Quanto devo trovare 90 Secondo me Se trova già Almeno 30 40 Vinta No non è vero C'è un gufo Totale 30 E hai vinto Eh a trovare Trovo già la serie B E non va bene Io tifo berghezano 28 Demiral Dai Dai 3 Mele 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 Niente 29 Da Albert Vabbè Vinta E 57 Siriku Contiamo a fare Contiamoli Vabbè Tu sei sui 300 Tu due 70 Io penso 150 Ma no Ma ha fatto il conteggio Però Siriku Mi ha dato lo sprint E regà Vai Simo Vai con la dettata Allora dico 29 31 9 5 13 27 10 4 20 40 16 21 4 16 25 2 2 2 45 2 Questi sono i Quelli di tuoi Eh tanto ha le 2 45 No 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 ma non è niente Voi avete trovato 97 Vai ci sei 99 99 57 Ci proviamo 8 18 26 97 8 23 21 8 44 7 9 Basta Basta Ok Ok guy già batte Alessia Ora tocca a me 2 45 E il momento di decidere se c'è la gloria o il baratro A quanto stavo io? Sì 2 40 Sì 13 8 10 3 23 Vinto tu fra 12 33 8 12 45 Signori 394 Sono il vincitore Di questa challenge E vinco il trofeo Di una marca di cioccolato buono Che è successo? Non si sa Ma va bene o va? Raga tanti mi piace qui sotto per questa vittoresima di assurda Iscrivetevi se ancora non avete fatto Beh da farlo un'alcomicazione è tutto Ci vediamo al prossimo video Bella